Allora, Kevin Spacey è un grandissimo politico. Ma che c'entra? Ah no, non lo stiamo parlando di Kevin Spacey. No, stiamo parlando? No, perché sto in fissa con House of Cards, bellissima serie. Tu sei un fan di gente che si meneno? Sì, ma anche quelli suddoli, malvagi tipo Kevin Spacey in House of Cards. Ti piace cosa William Neeson? William Neeson è tipo la divinità cinematografica per eccetera. È arrivato il suo erede, è tornato il suo erede, Keanu Reeves. Keanu Reeves che mena! E' questo l'argomento? Mena e spara. Mena e spara. In John Wick. John Wick, video recensione a cazzo di cane. Di John Wick. Se voi vi ricordate le ultime foto di Keanu Reeves che era grosso e gonfio. Niente, si è dimagrito. Si è dimagrito. Prima ha fatto l'allenamento con un film suo da regista, si chiama Man of Tai Chi. Ok. Poi quando ha detto ok, ho fatto il Tai Chi, muppio la pistola e ammazzo tutti, fa John Wick. Quando faranno il film insieme William Neeson e Keanu Reeves? Uno contro l'altro, tipo Freddy vs Jason. No, 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 no. Insieme. Uno contro l'altro no perché tanto vince William Neeson. Esatto. Insieme, insieme. John Wick è un film d'azione semplice e pulito. Cioè, come dire, c'è la vendetta e un'ora e quaranta di botte e sparatorie. Ballotto le vendetta. Però, fatto bene, l'azione è girata benissimo, molto elegante. Keanu Reeves ha in grande forma ed è molto, come dire, un contesto molto curioso perché sembra una rilettura dei videogiochi. Il film non è tanto un videogioco ma sembra un videogioco che potrebbe essere bello. Quindi noi lo consigliamo. Noi lo consigliamo, se vi piace il genere. Off topic, ho visto il trailer di The Raid 2, ma si minano tutto il film? Ma tu te lo ricordi di The Raid 1? No, ma ci sono dei momenti in cui parlano, si minano e basta. Si minano mentre, cioè, parlano mentre si minano. Ah. Ricordi o chi è Benji che parlavano mentre correvano? Uguale. Loro mentre si minano. Allora, no, come stai? Ah, quindi consigliamo John Wick e The Raid. Ma The Raid è buona, eh. Penso a The Raid con Keanu Reeves. John Raid. John Raid. Ciao ragazzi. Dai, se Simone si accorge di noi... Sì.